Allora, partiamo da Antea Greco, responsabile partnership di VIA. Ha una presentazione? Sì, perfetto. Benissimo. E ci parlerà, non c'è il titolo, quindi non lo so, suspense. Ecco, l'abbiamo fatto apposta perché era un po' di suspense. Perché voleva evitare già domande cattive all'inizio sul titolo, perfetto. No, quelle non dispiacciono in realtà, ma non rende interessante la presentazione. Molto bene. Grazie mille a tutti. Sono Antea Greco, responsabile partnership di VIA. In realtà quello di cui vi parlerò oggi è come flessibilizzare il trasporto attraverso nuove tecnologie. Esatto, va in giro. Perfetto, quindi cercherò di essere il più veloce possibile, visto il lungo pomeriggio. Per cui volevo fare un'introduzione veloce sulla nostra azienda, su VIA, sui nostri prodotti che sono VIA e Remix. E poi nell'ottica appunto di flessibilizzazione del trasporto, parlare un po' dal nostro punto di vista, quali sono le sfide principali e anche dell'importanza che ha la pianificazione congiunta di linee regolari e linee a domanda. E poi qualche update veloce, insomma, sui nostri nuovi progetti in Italia. Cos'è VIA? VIA è un'azienda che già da dieci anni si occupa di tecnologie per il trasporto, in particolare trasporto a domanda. Siamo presenti in circa 500 città, sia con la parte di trasporto a domanda, ma anche con la parte di Remix, che è un'azienda che abbiamo comprato l'anno scorso, che si occupa di pianificazione del trasporto. Quindi, insomma, VIA ha due anime che sono coerenti, insomma, per quanto riguarda il trasporto flessibile. Prima come pianificare il trasporto e poi come lanciare servizi flessibili dopo appunto un'apposita pianificazione. Per quanto riguarda il trasporto a domanda, insomma, si può declinare in diverse aree, però principalmente l'idea è quella che il trasporto a domanda è perfettamente integrato nel TPL, quindi è una modalità di trasporto pubblico che ha la funzionalità di aumentare l'accesso a reti esistenti di trasporto. Quindi il primo e ultimo miglio è uno dei casi principali, ma anche aree rurali in cui non si ha accesso, insomma, al trasporto. E poi lavoriamo anche tanto con il trasporto a rete fissa per offrire tecnologie per poter prenotare il trasporto fisso e per poter gestire la capacità dei veicoli. Il trasporto di persone a mobilità ridotta è un trasporto molto delicato, che con tecnologie dedicate appunto può essere svolto con maggiore flessibilità. Il trasporto scolastico è anche una nostra area importante. Ad esempio gestiamo il trasporto scolastico, la tecnologia per il trasporto scolastico in tutto lo stato di New York, in cui c'è un'applicazione che permette ai genitori di prenotare le corse per i figli e monitorarle in tempo reale. E trasporto aziende, poi la parte anche di analisi del trasporto, che è tutta la parte di pianificazione. Per quanto riguarda il trasporto a domanda, magari vi so risparmiare le solite slide, però appunto c'è un'applicazione per prenotare il trasporto, che è un'applicazione in white label, c'è un'applicazione autista che permette all'autista di sapere appunto dove è uno strumento di navigazione per l'autista, e poi c'è una console operativa per gli operatori che permette di monitorare il servizio. Quindi questo è un po' insomma, a parte tutti gli algoritmi che ci sono dietro, che riescono a indirizzare i veicoli in base alle richieste di forma dinamica, questa è un po' tutta la soluzione che offriamo ai nostri partner. E come un esempio che è stato fatto anche prima di Delby in Germania, noi siamo il partner all'interno del MAS di Berlino, che si occupa di trasporto a domanda. Quindi siamo in tante città, questo è un esempio di una città in cui siamo presenti. Mentre per la parte di planificazione del trasporto, Remix è una piattaforma che permette ad agenzie e operatori di planificare il trasporto in maniera molto veloce. È una piattaforma che permette di progettare, valutare e comunicare le linee di trasporto veramente in pochi istanti, come potete vedere nell'immagine disegnando sulla mappa quello che fa il software calcolare in tempo reale, quanti veicoli sono necessari per quella linea che si sta disegnando e qual è il costo stimato di quella linea. Quindi permette di fare valutazioni molto veloce rispetto a linee di trasporto, non solo ma permette anche di progettare linee a domanda, quindi insomma permette di creare linee a domanda e di stimare per quelle aree in particolare quanti veicoli sono necessari. Quindi appunto uno strumento che permette di importare e visualizzare reti di trasporto, di stimare estanzialmente risorse e costi, di esportare tutte le immagini create in alta risoluzione per comunicare cambiamenti di rete e di collaborare con i colleghi in tempo reale, di commentare cambiamenti in tempo reale e di stimare l'impatto anche di soluzioni DRT, quindi appunto quello che chiamiamo responsive transport, quindi trasporto a domanda. Passo alla seconda parte della presentazione che vogliamo fare un po' una riflessione sulla nostra visione del futuro del trasporto, nel senso che come si è detto molto anche oggi insomma appunto la sostenibilità è una parte molto importante, il problema che abbiamo anche in seguito insomma alla situazione di pandemia che c'è stata è l'utilizzo molto elevato del veicolo privato che crea molte stanetà negative che hanno un impatto appunto sul tessuto sociale e urbano e in questo caso è molto importante anche l'impegno politico, in particolare per quanto riguarda la parte normativa perché è molto difficile insomma proporre e lanciare soluzioni innovative se il contratto insomma di servizio, se la normativa è sempre la stessa, quindi questa è una cosa molto molto importante e è importante anche focalizzarsi poi sul trasporto pubblico a parte tutte le altre soluzioni che ci sono di mobilità condivisa, però il trasporto pubblico rimane l'elemento fondamentale e quindi ha bisogno di innovarsi e di insomma avere tecnologie che lo permettono. Per quanto riguarda il trasporto noi lo dividiamo in tre categorie, il trasporto di linea regolare appunto con orari fissi, quello di sempre, ma poi anche il trasporto che diventa sempre più flessibile, sia semifisso quindi avendo una linea regolare che però evita deviazioni, evita di fermarsi tutte le fermate se non ci sono prenotazioni, quindi un servizio che segue una linea fissa che però insomma permette di risparmiare costi e tempo se non c'è nessuno che deve utilizzare il servizio in quel momento e poi un servizio completamente flessibile quindi a domanda, agevolato a tecnologie come la nostra o come anche altre insomma che permette di direzionare il veicolo in qualsiasi punto, quello che chiamo un po' nuvola di punti che possono essere insomma gestiti in base alle prenotazioni. Quindi quello che ritengo importante è pianificare il trasporto tenendo in considerazione questi tre tipi di trasporto, quindi ogni caso di uso avrà una formale di trasporto rilevante per quel caso di uso in particolare e quindi pianificare il trasporto con strumenti innovativi è molto importante per tenere in conto dei dati sociodemografici, della zona in considerazione anche nel creare simulazioni per permettere appunto di stimare il numero di veicoli per quella zona, il costo e decidere se insomma c'è un miglioramento o un peggioramento rispetto alla situazione precedente. Questi qua sono alcuni esempi di esami insomma di studi di accessibilità che facciamo con la nostra piattaforma Remix. Non so se si vede c'è un piccolo puntino che chiamiamo Jane che è simile insomma all'omino che c'è su Google Maps e in questo caso abbiamo messo come punto di arrivo questa location e quello che sta dicendo la mappa è l'accessibilità del trasporto pubblico rispetto a questo punto. Quindi per arrivare a questo punto di quanto tempo c'è bisogno? Quindi la parte in verde sono 15 minuti, quindi con il trasporto pubblico entro 15 minuti si può arrivare in questo punto da quelle zone, verde più chiaro sono 30 minuti, 45 minuti e 60 minuti. Quindi permette di stabilire in base al trasporto pubblico che c'è in questo caso a Torino insomma per arrivare in questo punto come destinazione di quanto tempo c'è bisogno. Quindi fare studi in base al trasporto insomma esistente o anche fare studi in comparazione al veicolo privato, quindi in questo caso sempre prendendo come punto insomma il punto in cui siamo adesso quello che fa il sistema in questo caso è comparare il tempo di accesso al trasporto pubblico rispetto al veicolo privato. Quindi le zone in verde scuro sono i punti in cui il trasporto pubblico è molto conveniente quindi in cui il tempo di percorrenza trasporto pubblico contro veicolo privato è simile mentre quelli più chiari sono punti in cui il veicolo privato è molto più conveniente quindi permette anche appunto, è importante fare studi per comparare appunto l'accessibilità al trasporto e questi studi possono essere fatti anche ad esempio introducendo una nuova linea o introducendo una zona a domanda e quindi paragonando insomma la differenza tra diversi modelli di trasporto. Quindi le sfide appunto che vediamo sono per quanto riguarda i servizi flessibili e che sicuramente offrono una maggiore qualità e l'utente ha bisogno di una maggiore qualità appunto per scegliere il trasporto pubblico invece del veicolo privato però spesso c'è anche un costo maggiore quindi come viene coperto questo costo e in particolare quello a cui mi riferivo prima è insomma qual è il modo migliore per definire, regolamentare e anche per remunerare questi servizi perché al momento non c'è una definizione chiara che è agevole o comunque incentiva il lancio di servizi flessibili quali sono i parametri ideali del servizio flessibile e poi come si interfaccia anche poi all'intermodalità e alle applicazioni massi insomma di cui si è parlato anche oggi. In maniera molto veloce per quanto riguarda i nostri progressi in Italia stiamo lanciando adesso, insomma nel secondo quarter dell'anno quindi insomma prima della metà tre servizi di trasporto a domanda con operatori di TPL in Friuli con casi di uso sia urbano che suburbano che rurale quindi avremo insomma presto dati reali che potremo anche mostrare abbiamo anche un servizio aziendale con CNH sia a Torino che a Modena che si chiama My Shuttle, quindi trasporto dipendenti e già diversi operatori e agenzie stanno utilizzando Remix come ad esempio ATM Milano e l'agenzia di Modena e con CNH il servizio è stato lanciato a settembre a Torino per la sede di Stura è stato poi esteso anche a Modena e per la sede di Torino quello che abbiamo visto è stata una riduzione del 40% della durata media dei viaggi per arrivare allo stabilimento rispetto al trasporto che c'era prima quindi è molto più efficiente e un aumento del 35% degli utenti quindi è un servizio che è stato molto utilizzato per quanto riguarda Remix lavoriamo con ATM Milano aiutandoli in particolare nella parte delle gare quindi stanno facendo un lavoro molto interessante in gare internazionali in cui non hanno informazioni sul trasporto locale quindi li stiamo aiutando con Remix ad analizzare in maniera molto veloce e a preparare documenti di gara per reti di trasporto insomma in diverse aree, in diverse regioni e invece con Modena, il caso con l'agenzia di Modena invece li stiamo aiutando nella revisione della rete di trasporto di carpi in particolare poi anche in altre città con l'idea appunto di pianificare e valutare diversi scenari in maniera molto più veloce mi fermo perché ho detto tante cose spero sia stata interessante abbiamo sforato un pochetto mille grazie siccome veramente siamo in ritardissimo grazie 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 grazie